Ciao amici e buona tardi di giorno nuovo. Oggi seguitemi il mio canale perché c'è una novità. Partiamo subito. Allora, il primo dicembre, canale che oggi è il canale di casa, un grande successo, le clip più amate. Cos'è le clip più amate? E' i mitici dati dai film della serie tv più amate disponibili sul canale, diciamo, dal primo dicembre avendo 15 clip più amate, scegliendo quale che dovete vederlo oppure no, se volete, diciamo sì oppure no, sì o no, 15 clip per vederli tutta la famiglia, tante risate, tante emozioni, tanti addi per il celebrato e unico. Quindi basta così, grazie e buona visione con le clip che è disponibile sul canale Samuale Turo. Ciao, mi raccomando, divertitevi sul canale Samuale Turo, iscrivetevi al mio canale.